Ciao raga, sappiamo tutti che la situazione nel momento che stiamo vivendo è difficile, è una situazione particolare. A noi ci chiedono solamente una cosa, stare a casa. Stando a casa ragazzi limitiamo il contagio, stando a casa ragazzi solamente così possiamo vincere questa difficilissima partita contro questo maledetto virus. Quindi stiamo a casa, un abbraccio, ciao.